Dirigenti scolastici, maestre e maestri fatevi sotto perché nella Fontaninap, Foggia e gli altri comuni della Capitanata non sono ancora presenti. In provincia risulta censito il solo comune di San Nicandro Garganico. L'acquedotto pugliese ha bandito la seconda edizione del progetto concorso per riempire di contenuti l'applicazione creata dagli alunni dell'Istituto Tecnico Industriale di Gioia del Colle. Il premio, bandito in collaborazione con il Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale e patrocinato dal Lanci e dall'Ufficio Scolastico Regionale, è riservato alle ultime due classi delle scuole elementari di tutta la Puglia. L'app consente di geolocalizzare le fontane pubbliche. Ci sono sia le fontanine da cui attingere acqua potabile, dunque rappresenta un valido strumento per gli utenti che vogliano raggiungere quella più vicina, sia quelle monumentali così da mappare anche il patrimonio storico. Le classi quarte e quinte delle scuole primarie dovranno inviare entro il 15 maggio, su supporto magnetico, l'elenco delle fontane del proprio territorio comunale con relativi indirizzi e coordinate geografiche, foto ed eventuale materiale storico documentale alla sede di Bari dell'Acquedotto Pugliese. L'obiettivo è anche quello di far comprendere sin dall'infanzia il valore dell'acqua bene comune e come funzioni il servizio idrico. L'ACUP premierà a tutte le scuole con una biblioteca dedicata al tema dell'acqua, gli istituti riceveranno il riconoscimento di partner dell'iniziativa e agli alunni verrà riconosciuto il titolo di giovane esploratore dell'acqua pubblica.